Grazie a tutti, grazie a tutti di essere presenti. Io voglio dare innanzitutto il benvenuto a tutti coloro che sono collegati, che saranno i protagonisti di questo nostro appuntamento così importante oggi. Voglio ringraziare soprattutto Teppe, insieme a tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo appuntamento un appuntamento quale è, un appuntamento molto importante, un momento di cerniera della discussione che stiamo avendo. Politicamente è anche importante perché questo appuntamento politicamente vede il Partito Democratico e Articolo 1, protagonisti dell'elaborazione, dell'organizzazione e anche il fatto che il Ministro Speranza di Tardi sarà con noi, insieme al Ministro Orlando, credo che sia la dimostrazione di questo lavoro comune che stiamo facendo e che abbiamo fatto. Molto importante nel momento in cui tutto questo avviene, avviene in un momento nel quale è evidente che esiste una questione sociale in Italia, questa questione sociale è la questione che noi vogliamo mettere al centro, questa questione esiste, esisteva, i salari italiani sono i più bassi d'Europa, sono quelli che sono cresciuti meno in Europa per lungo tempo e oggi questa debolezza strutturale a cui si aggiunge una precarietà legata a formule contrattuali che hanno purtroppo aumentato la precarietà e soprattutto regge i giovani più in difficoltà. Tutto questo interviene nel momento nel quale l'inflazione sta arrivando a dei livelli che sono arrivati da allarme rosso.